Musica Questa è l'ordine di operazione per i tiri collettivi di squadra. Sono studi con rocchi per la rotta di avvicinamento al bersaglio. Apertura del fuoco 1,20 m. Rilevamento a 45 gradi. Caccia torpediniere nel Biogeni. 2.000 m di prora a dritte. 3.000 m di prora a dritte. Allunga 500. 5.000 m di prora a dritte. 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 bene racchi benissimo si dice valeri si svegli per segnale che dici cessare il fuoco